con noi per i diritti di tutti, anche i tuoi diritti, con noi perché siamo gli unici liberali e libertari, con noi perché mettiamo davanti a tutto la democrazia, lo stato di diritto, il rispetto rigoroso delle regole, con noi per gli Stati Uniti d'Europa, con noi per le battaglie che abbiamo fatto e che facciamo giorno dopo giorno sui diritti civili e sui diritti umani, ma soprattutto perché senza di noi, pensaci bene, anche se non sei radicale o non ti senti radicale, senza di noi, questo paese sarebbe un posto peggiore. Ecco oggi la tua scelta di iscriverti o di non farlo è la differenza che c'è tra l'essere con noi o senza di noi, tra l'avere o non avere chi lotta con passione per tutto questo. Iscriviti ai Radicali Italiani, dai una possibilità al nostro futuro, dai una possibilità al tuo futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.